Siamo a Marina di Castagneto Carducci dove questa sera si è tenuto un talk show sul calcio. Accanto a me Celeste Pin, da ex difensore, ti chiedo subito il tuo parere su Romagnoli e la cifra fissata dalla Roma, i 30 milioni che servono per portarlo via ai giallorossi. Un'esagerazione? Io credo sempre in assoluto che un valore e una cifra che si fa per un giocatore di calcio dipendano molto dalla domanda e dall'offerta. E se siamo arrivati a queste cifre vuol dire che la qualità del giocatore non si mette in dubbio ma sicuramente vuol dire che di difensore in giro bravi ce ne sono pochi. E in Italia, nel nostro campionato, quali sono i difensori dietro a Romagnoli che possono comunque far comodo alle società più importanti? Se si parla di italiani a me piace tanto Tonnelli dell'Empoli quindi è un giocatore che mi piacerebbe vederlo anche in maglia viola perché è giovane, bravo, ha dimostrato di essere all'altezza della situazione e di essere comunque in una costante crescita quindi qualità-prezzo punterai tanto su questo giocatore. Maximovic invece ti piace? È cresciuto abbastanza nel Torino? Sì, è cresciuto ma credo che in assoluto costi molto molto di più di Tonnelli. In generale chi è che si è rinforzato di più? A parte l'Inter naturalmente che ha speso moltissimo. Ma oggi, hai detto bene l'Inter, poi le altre squadre credo che al di là dei giocatori che hanno movimentato ci sono squadre come il Milan che hanno l'ambizione di riprendersi sicuramente un posto competitivo quindi minimo in Europa League. La Lazio ha mosso poco ma conosco bene Stefano Pioli quindi è una garanzia allenatore e ha fatto molto bene con questo gruppo di giocatori. La Roma penso che abbia lo stesso mosso poco ma giocatori interessanti. Manca un po' la Fiorentina a questo appello, credo che comunque siamo ancora in tempo per cercare qualche giocatore interessante e soprattutto sposare la filosofia del nuovo allenatore Sosa. Chiudi del Milan, è il Milan che deve intervenire proprio in difesa perché è intervenuto a centrocampo in attacco però nel reparto arretrato ancora non ha concluso nessun affare. Sì, si deve completare però ha già fatto abbastanza. Ribadisco, la Fiorentina è un attimino in ritardo rispetto alle altre per quello che concerne le squadre che ambiscono dal secondo, terzo, quarto, quinto posto. Sul Napoli invece che idea ti sei fatto? Il nuovo Napoli di Sarri? Il Napoli di Sarri dal mio punto di vista dipende molto da lui nel senso che è una squadra con ottimi giocatori il suo arrivo deve portare la sua filosofia ma deve stare molto attento a non cambiare in fretta perché giocatori come Iguain hanno il loro modo di giocare, il loro modo di essere quindi credo che se a Empoli fai tre ore di allenamento a Napoli magari va bene farne anche una e mezza. A Stori come lo giudichi nella graduatoria dei difensori? Non mi entusiasma più di tanto sinceramente e qualità-prezzo credo che ci sia di meglio in giro quindi a parte il discorso che la Fiorentina non interessa non so se chiuderà con il Napoli però non credo che sia un giocatore da 10 milioni in su.